Gentili telespettatori, buona giornata. Il ritorno di Gianfranco Fini, ritorno in politica? Forse no. Si schiera al fianco di Boldrini Bertinotti sulla presidenza del Copasir. Beh, insomma, ognuno a un modo suo in sedi separate, ex presidenti di Camera e Senato come Luciano Violante, Marcello Pera e Renato Schifani. Beh, però c'è un altro in questa strana compagnia di terze cariche dello Stato scese in campo, come un sol uomo per lo stesso Cardine, la presidenza del Copasir che spetta a Fratelli d'Italia. Per garanzia costituzionale, parola di Fausto Bertinotti, Irene Pivetti, Laura Boldrini e di un quarto ex di cui ufficialmente si erano perse un po' le tracce da tempo. Gianfranco, Fini. Beh, insomma, adesso che Fini vede anche Fratelli d'Italia arrivare al 19,5%, avrà pensato, caspita, se ci fossi stato io sarei potuto diventare capo del governo, primo partito italiano. Il sogno di Fini che poi non si è mai realizzato, ricordate l'alleanza col Berlusca, i problemi con Berlusconi? E così Fini scende a fianco di Fratelli d'Italia dicendo che la presidenza del Copasir spetta all'opposizione in una democrazia fondata sull'equilibrio dei poteri e sul rispetto dei diritti della minoranza. Beh, insomma, le terze cariche di destra e di sinistra scendono in campo per incalzare i presidenti di Camera e Senato, Fico e Casellati, a ripristinare la legalità costituzionale nel Copasir. Beh, insomma, poi proprio oggi abbiamo visto che finalmente il Raffaele Volpi, il leghista, abbandona la carica dalle dimissioni, ma sono delle dimissioni forzate perché PD, Cinque Stelle e l'EU abbandonano la riunione e il Copasir è assolutamente bloccato. E per questa ragione a Volpi non rimane altro che dare le dimissioni, come chieste anche da Matteo Salvini, proprio perché questo stava danneggiando anche l'immagine del partito. Così, tornando a quanto scritto da Bertinotti, Pivetti, Boldrini e Fini, l'anomalia di questa commissione va superata al più presto per una considerazione su tutte, elementare, perché interna allo spirito della Costituzione. Ci sono ruoli nel Parlamento e della Repubblica che devono essere interpretati dalle opposizioni, che è la condizione necessaria perché il Parlamento possa esercitare un controllo sulle attività del Governo. A maggior ragione, si legge ancora in una condizione come quella dell'esecutivo di larghe intese, nonché per le vicende recenti, incluso il caso Mancini, che hanno riguardato e riguardano il Copasir. Tutto ciò rende ancora più acuta l'esigenza di una funzione di controllo che venga esercitata da un rappresentante rappresentante dell'opposizione. Insomma, fa un po' così risentire Giancarlo Fini, ormai che non si vedeva sui radar da diverso tempo. Aveva lasciato la politica dopo dei problemi che aveva avuto lui, la compagna, il suocero, il cognato. Nessun coinvolgimento in questa vicenda. Adesso fa una vita tranquilla. Politicamente si considera in pensione, assicura proprio Fini. Del resto l'ex leader di AN e di FLI viene descritto come distante, seppur osservatore dalla cronaca politica. Di certo non si vede più da molto tempo nei pressi di Montecitorio, dove gli ex presidenti non hanno più l'ufficio. E a chi gli attribuiva mesi fa un flirt con il fantomatico partito di Conte, ha fatto arrivare un secco. Commentare il ridicolo non ha senso. Insomma, Fini con Conte... Chi non ha smesso di frequentarlo di persona ci spiega così la sua giornata. Sta impiegando, dice questa fase della vita, per fare il padre che non aveva fatto con la sua prima figlia a causa degli impegni e della politica. Per il resto le attività di Fini sembrano coincidere con quelle che impazzano fra gli ex di mezzo mondo. Gianfranco studia e scrive e spesso è all'estero per delle conferenze. Capitano anche degli incontri con gli ex ambasciatori in Italia desiderosi di comprendere a che punto è la politica di casa nostra. A parte qualche eccezione, ammette di non capirla né riconoscerla più di tanto, nemmeno lui. Beh, abbiamo parlato tante volte della politica italiana che è arrivata a un livello così basso, che probabilmente è sotto il pavimento, nel senso che abbiamo uno spessore di questa politica che è inesistente. Abbiamo la maggior parte dei politici che sono persone senza curriculum. Senza curriculum vuol dire senza esperienza di nessun tipo. Persone che non vengono dalla gavetta politica, ma vengono da like su Facebook, nomine su Whatsapp, cose del genere. Persone salite sul carro di chi arrivava in Parlamento veloce e sono arrivati delle persone che non sapevano nulla di politica, ma neanche di cultura generale, di economia, di società, di finanza. Nulla di nulla. Ecco, abbiamo una politica che credo sia la più, quella che è il livello più basso della storia della Repubblica italiana. Per quello che gli italiani adesso chiedono professionalità, conoscenza, esperienza, gli italiani rimpiangono i politici di una volta, per quello che si parla di mettere politici come Bertolaso, Albertini, ecco, ritornano in voga Casini, ritornano in voga i politici di una volta, proprio perché gli italiani, non so, ad esempio abbiamo visto ieri la Raggi in televisione che diceva, eh ma io sono inesperta, ho fatto i primi anni così, ma adesso ho capito come si fa, ho bisogno di un altro mandato per recuperare la mia inesperienza, gli errori che ho fatto. Dicevamo, abbiamo sempre detto, in politica l'inesperienza non paga, non si può arrivare a gestire una capitale senza avere nessun tipo di esperienza, solo la buona volontà non serve a nulla, a nulla. Tu puoi lavorare 12 ore al giorno e non combinare niente. Un esperto può anche lavorare un'ora al giorno e avere una città che è uno specchio, ecco. Insomma, non è quanto tempo lavori, è come lavori. E come lavori è dato dall'esperienza, non solo dalla buona volontà. In politica la buona volontà non serve a niente senza l'esperienza. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.